Miriana Trevisan e Biagio Danelli continuano a flirtare al grande fratello Vip. Come avrà preso il figlio Nicola questo nuovo avvicinamento di sua madre? L'ex marito Pago svela che il ragazzino non l'avrebbe presa affatto bene. Nicola è molto legato a Miriana. Racconta Pago tra le pagine di nuovo, quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile. Nella casa del GFVIP, prima dell'avvicinamento con Biagio, c'era stato anche un particolare rapporto tra Miriana e Nicola Pissu. Ma sappiamo tutti com'è andata a finire. Anche in quel caso Pago, ospite a casa Chi, aveva raccontato cosa ne pensava il figlio. Dicendo praticamente le stesse cose. Se mio figlio sta subendo delle ripercussioni per questa cosa, ti dico la verità. All'inizio, essendo la mamma, lui era un po' geloso dal punto di vista proprio affettivo, come se fosse un figlio fidanzatino. All'inizio ha detto, ma cosa sta facendo? Ma adesso è tranquillo. Lei è una mamma fantastica.